Mi chiamo Jennifer. Sono sposata con mio marito da otto anni. Mio marito è un uomo gentile che mi ama sempre. Ama la mia cucina e apprezza qualsiasi cosa io prepari, dicendo che è deliziosa. Davvero, Jennifer, tutti i piatti che prepari sono così deliziosi. Mi sembra quasi uno spreco che sia l'unica a gustarli. Incoraggiata da mio marito, decisi di aprire la tavola calda. I clienti che venivano a mangiare sono diventati clienti abituali e abbiamo ottenuto valutazioni elevate sui siti di recensioni. Ora c'è una fila di persone che aspettano fuori dal locale all'ora di pranzo. È così affollato ogni giorno che non potrei farcela senza l'aiuto di lavoratori part-time. Anche oggi sono arrivati molti clienti. È tutto merito vostro che mi avete incoraggiato. Grazie. Ringraziare mio marito era diventata una routine quotidiana. Ma un giorno ricevetti una telefonata da una studentessa universitaria che diceva di essere l'amante di mio marito. Tuo marito mi ha messo incinta. Cosa? Tuo marito mi ha messo incinta. Quando? Il problema non è quando. Partorirò presto. È, presto. Questo significa che deve essere avvenuto negli ultimi dieci mesi. Potrebbe esserci un errore? Sta cercando di evitare le responsabilità. Per questo motivo ho dovuto abbandonare l'università. Questo perché non ha usato la contraccezione, giusto? Non credo che abbia a che fare con me. Come puoi dire che non ti riguarda? È stato suo marito a farlo. Allora perché non parla direttamente con mio marito? È un problema per me avere a che fare con questo. Una moglie dovrebbe assumersi la responsabilità di ciò che fa il marito. È così? Perché sta ridendo? Perché mio marito non farebbe mai una cosa del genere. Deve essere un errore. Pensa che suo marito non farebbe mai una cosa del genere. Che non sia quel tipo di persona. Ma il fatto è che sono incinta. Che cosa intende fare al riguardo? Cosa posso fare? Mi dia 30.000 dollari. Cosa? Perché 3 milioni? Per risarcimento. Ho dovuto lasciare l'università? Quindi pagatemi 30.000 dollari. Questo è preoccupante. È davvero sicura che si tratti di mio marito? Sì. È suo marito. È suo marito. È impossibile. È possibile. Ecco perché la sto chiamando. Ma non mi sembra possibile. Mio marito, che è una persona molto sincera. E io ci siamo incontrati per la prima volta in un bar preferito. All'inizio non parlavamo nemmeno, ma continuando a frequentarci abbiamo iniziato a salutarci e alla fine abbiamo preso il tè insieme. Ci è voluto più di un anno solo per questo piccolo progresso. Ci siamo goduti il tè insieme e sembrava che non potesse succedere altro tra noi. Ma non potendo resistere all'attrazione, fui io a confessare. Mi piace. E se non gli piacessi per questo? E se mi dicesse che gli piace un'altra? Rivelando i miei sentimenti, potrei perdere il tempo che abbiamo adesso. Questi pensieri turbinavano nella mia mente. Eppure, volevo esprimere i miei sentimenti. Con i palmi sudati e uno sforzo disperato, le uniche parole che sono riuscita a dire sono state proprio quelle. Tuttavia, quando ho confessato, è emerso che mio marito la pensava allo stesso modo. Eh, mi dispiace. Deve essere fastidioso, vero? Ma, ma, perché mi piace? Dovevo solo esprimere i miei sentimenti. Ricordo che mi sentivo sul punto di piangere. I miei occhi si scaldarono e mi pentì di aver detto qualcosa. Il suo silenzio sembrò durare per sempre. Pensai, è finita, devo andarmene, mi dispiace. Mi alzai per andarmene quando lui parlò. Aspetta. Aspetta, ti prego. Ero così felice che non sapevo come rispondere. Eh, anch'io la penso così. Mio marito l'ha detto con la faccia rossa. Ha detto che la sua mente si è svuotata, non sapendo come rispondere. È un uomo puro, schietto, ma timido. Mi ha raccontato di aver lottato ogni giorno, incapace di esprimere i suoi sentimenti d'amore. Quando l'ho saputo? Sono stata felicissima. Le lacrime che avevo trattenuto sono straripate e ho pianto davanti a lui. Ci volle molto tempo prima che mi chiedesse di sposarlo. Tuttavia, ho creduto in lui, aspettando che mi facesse la proposta. La sua proposta fu semplice e calorosa. Vuoi sposarmi? Mi disse con voce flebile e incerta. Io annui leggermente in risposta. Sì, sì, sì. Il nostro matrimonio fu piccolo, ma quando iniziò la nostra vita insieme, non potevo credere a quanto fossimo felici. Tuttavia, negli ultimi cinque anni sono rimasta sola. Mio marito è stato trasferito e, dato che anch'io lavoravo, non ho potuto seguirlo. Sono rimasta sola a casa e l'ansia è stata incommensurabile. Anche se vivevo da sola, mi sembrava di non aver mai vissuto un'esperienza del genere e paure sconosciute mi tormentavano. Come poteva avere un amante? Soprattutto una studentessa universitaria molto più giovane di lui. Ho pensato. È assolutamente impossibile. Mio marito non farebbe mai una cosa del genere. Non è possibile. No, al contrario, se fosse possibile, sarebbe addirittura meglio. Forse sarebbe meglio litigare per questo. Quindi, pagate i 30.000 dollari. Quando il bambino nascerà, avrà un costo. Sì, costerà. Ma mio marito non avrebbe mai avuto un amante. Perché dici così? Tutti gli uomini sono uguali. Non pensi che suo marito sia l'unico onesto? Non credo che sia particolarmente nobile. Ma non potrebbe farlo. Non ce l'ha fatta? È impossibile. Io e suo marito abbiamo questo tipo di rapporto. Sa, tuttavia, trovo difficile crederci. Non importa come ci penso, non riesco a vedere lei e mio marito avere un rapporto del genere. Non è vero. Che tu ci creda o no, è vero. Pai di subito i 30.000 dollari. Capisco il suo punto di vista. Potrebbe dirmi prima il suo nome? Eh, perché devo dirle il mio nome? Se lei è la sua amante, dovrei avere il diritto di chiederlo, no? Beh, ok. Sono Daisy. Allora, Daisy, dove hai conosciuto mio marito? È un appuntamento galante. Incontri di zucchero? Mio marito non potrebbe mai fare una cosa del genere. Non è il tipo di persona che potrebbe farlo. Inoltre, mentre prima parlava rapidamente, quando faccio domande esita. Potrebbe essere una sorta di nuova truffa? Mi è sorto questo sospetto. Sì. Sorpreso? Ci siamo conosciuti attraverso lo sugar dating e abbiamo sviluppato una storia d'amore. Eravamo attratti l'uno dall'altra e abbiamo stipulato un accordo di mistress. Stiamo insieme da quasi due anni. Capisco. Ha qualche prova che il suo partner sia mio marito? Eh, prove. Beh, mi ha dato il suo indirizzo. È strano. No. Normalmente, non darebbe il suo indirizzo. L'ha dato a me. E il numero di telefono? Conosce il numero di cellulare di mio marito? Se hai una relazione con un amante, dovresti saperlo, no? Eh. Non conosco il suo numero di telefono. Abbiamo un account di messaggeria. Non ne abbiamo bisogno. È così? Mio marito non ha quasi mai usato i messenger con me. Ha sempre detto che le telefonate sono migliori perché si possono capire le emozioni dell'altra persona attraverso il suo tono e le sue pause. Cosa che non si può ottenere da un semplice testo su messenger. Quello che dici non ha molto senso. Pensa quello che vuoi, dipende da te. Il fatto è il bambino nella mia pancia. Non riesco a credere che sia un fatto. Ecco perché lo chiedo. Basta così. So che la sua tavola calda sta prosperando. Può pagare facilmente 30.000 dollari, vero? Non è così. Non importa quanto sia affollata la mia piccola tavola calda, i profitti sono scarsi. Eppure, la donna al telefono esige il pagamento. Pensando che continuare a telefonare avrebbe disturbato l'attività, ho risposto. Va bene. Capisco. Sono nel bel mezzo degli affari ora. Quindi incontriamoci e parliamo in dettaglio più tardi. Eh, va bene. Capirà quando vedrà la mia pancia. Ho pensato. Mio marito è morto cinque anni fa. E lei dice ancora che capirò, eh. Dopo aver riattaccato. Sorrisi alle lavoratrici part-time e le rassicurai che era tutto a posto. Qualche giorno dopo, nel giorno di riposo della tavola calda, invitai Jennifer. Sentendo questo, i lavoratori part-time, ritenendo che fosse un problema importante per il negozio, vennero alla tavola calda anche nel loro giorno libero. A dire il vero, mi sentivo un po' sollevato dall'avere al mio fianco degli alleati così forti. Jennifer arrivò, cullando il suo pancione, e si sedette su una sedia all'interno della tavola calda. Grazie per essere venuta oggi. Le feci un sorriso, ma era solo un sorriso d'affari. Dentro di me ero deciso a svelare la vera identità di questa donna. In effetti sembrava giovane e potevo credere che fosse una studentessa universitaria. Ma il suo trucco sapiente, le unghie laccate con cura e i gioielli appesi al collo sembravano piuttosto costosi. Potrebbe dirmi di nuovo i dettagli? I lavoratori part-time si sono messi a una certa distanza dal nostro tavolo, osservandoci in silenzio. Chi sono quelle persone? Sono venuti perché sono preoccupati per me. Cosa, un gruppo di curiosi? È piuttosto basso. Sono i miei preziosi compagni. Non usare questo linguaggio. Hai bisogno di una tale squadra per affrontare l'amante di tuo marito? Quanto sei introversa. Non è così. Comunque, può dirmi ancora una volta come l'ha conosciuto? Come avete legato nonostante la differenza di età? Te l'ho già detto, si tratta di sugar dating. Hai detto che stati insieme da due anni, giusto? Sì. È così. Allora, può mostrarmi la prova che il bambino che ha in grembo è di mio marito? Le sto dicendo che non è abbastanza? Non è sufficiente come prova, vero? Per esempio, se aveste delle foto scattate insieme, allora potrebbe essere credibile. Non c'è niente del genere. Ha detto che non voleva fare foto. È strano. Mio marito amava le foto. Faceva sempre foto ovunque andassimo. Ho molte foto scattate con lui. Quindi è inimmaginabile che non facesse foto con qualcuno che gli piaceva. Non lo so. Non voleva farle. Tutto qui. Se non ci sono foto, non ci sono prove. Le foto non sono tutto. E che dire della documentazione della gravidanza? Se sei davvero incinta, dovresti averne una, giusto? Stai dubitando di me? Anche con una pancia così grande? Sì, non voglio dubitare in questo modo, ma non posso essere sicura che la tua pancia significhi davvero che sei incinta. Non ho portato la documentazione. Se è così, allora è discutibile che tu sia davvero incinta. E non c'è alcuna prova che sia il figlio di mio marito. Non posso nemmeno credere che tu sia la sua amante. È come arrampicarsi sulle nuvole. Non è vero? Perché è andata così? Ti dico che è la verità. Jennifer si infuria e grida con rabbia. I lavoratori part-time dicono che è impossibile. Il marito di Jennifer ha un amante? Non è possibile. Daisy, sentendosi sopraffatta dai numeri, continua a gridare e a sfogare la sua rabbia. Allora, le dispiacerebbe dare un'occhiata a questo? Detto fatto, ho tirato fuori lo smartphone di mio marito. Questo è lo smartphone di mio marito. Perché sta guardando il telefono di suo marito? Non è un'invasione della privacy? Forse. Ma guardando questo si chiarirà tutto. Lei dice di aver conosciuto mio marito attraverso lo sugar dating. Ma è una hostess in un locale di cabaret, vero? Come fa a saperlo? L'account di questo messaggero è tuo, vero? Non si può dire dai messaggeri. Ma questo sfondo è la tua faccia, giusto? Sei truccata benissimo. Hai proprio l'aspetto di una ragazza da cabaret. Quella, quella, quella era una foto di una festa universitaria. Oh, capisco. È lo stesso trucco che hai adesso. Non posso credere che una dilettante possa fare un trucco così bello. È davvero bello? È così? Daisy sorrise, apparentemente soddisfatta. Qualsiasi donna sarebbe felice di essere definita bella. È una reazione naturale, credo. E sa. Leggo tutte le conversazioni qui dentro. Mio marito è andato solo una volta nel locale di cabaret dove lavora lei. Lei lo ha servito lì. Dopodiché, lei ha continuato a mandargli messaggi su Messenger, invitandolo al club. Ma lui non ha mai risposto agli inviti. Non voleva scambiare messaggi su Messenger perché sua moglie lo avrebbe scoperto. Per questo l'ho scritto come una tipica hostess e cliente. Sono la sua amante, quindi dovrei essere premurosa. È così? Da quello che vedo qui, sembra piuttosto disperata. Cerca di attirare l'attenzione di mio marito. Ma lui non era interessato, vero? E allora perché diventare la sua amante? È quello che le sto dicendo. Volevo essere premurosa e assicurarmi che sua moglie non lo scoprisse. Mi chiedo se una studentessa universitaria possa essere così premurosa. Io sono così premuroso. Allora, una persona così premurosa come lei, perché all'improvviso si è fatta avanti con questa storia? Perché sono rimasta incinta. Sei stata un amante per due anni. Ma questo scambio risale a più di cinque anni fa. Quanti anni c'erano di differenza? No, diverso. Stiamo insieme da più tempo. È solo che da due anni abbiamo una relazione più profonda. Dovreste pianificare le vostre vite con più attenzione. Stanno andando a rotoli. A proposito, questo è uno scambio con il capo di mio marito. Mio marito era conosciuto come un marito devoto nella sua azienda. Anche per gli incontri legati al lavoro, non gli piaceva andare nei locali di cabaret. Ci è andato solo una volta, a malincuore. È stata l'unica volta di cui ho parlato prima. In seguito, è stato invitato dai colleghi, ma non ci è più andato. E il suo capo gli diceva, sei davvero un marito devoto. E allora? Mio marito non frequentava posti con donne e non ha mai cercato di contattare altre donne oltre a me. Quindi l'idea che si sia dato allo shadow dating è impossibile. Ma è successo, quindi non posso farci niente. Forse era stanco di lei? Qui si vede che lei lo invita insistentemente e lui le rifiuta tutte. Sta consultando il suo capo. Una persona che consulta il suo capo su queste cose non si accorgerebbe affatto di te? Sei solo una hostess in un locale di cabaret, non la sua amante. Forse era solo un rapporto tra hostess e cliente? È così fastidioso. Che ci siamo incontrati tramite lo shadow dating o in un locale di cabaret, è la stessa cosa. Giusto. Il problema non è l'incontro. Quello che mi lascia perplesso è come tu abbia saputo il nostro indirizzo e perché non conosci il numero di telefono. Ero curiosa di saperlo, ma è chiaro dalla conversazione di questo messaggero. Quando mio marito andava al locale di cabaret con il suo capo, parlava sempre di me. Ha detto che gestisco una tavola calda che sta andando bene, invitandoli persino a venire a mangiare. Ma questo non era riferito solo a lei, ma a tutti i presenti. Ti sei ricordato della tavola calda e hai deciso di chiamare, vero? Bugie. Come puoi inventare una storia del genere? È tutta una speculazione, vero? Ancora non lo ammette. Forse se incontrerai mio marito, sarà tutto più chiaro. Non ce n'è bisogno. Perché no? Se incontra mio marito, tutto diventerà chiaro, no? A lui non piacerebbe. Se mi vedesse qui, mi chiederebbe perché sono venuta. Se si trasformasse in una scenata, sarebbe davvero pietoso. Per questo sono contrario. Ti va bene metterlo in una posizione difficile? Se lo amassi davvero, non potresti farlo. Se fosse davvero così, mi dispiacerebbe. Ma se sta tradendo, è necessario mettere le cose in chiaro. Se si tratta davvero di infedeltà, sono contraria. Ma questo è l'unico modo, no? Non c'è bisogno di questo. Perché no? Sarebbe meglio per te chiarire le cose, no? Invece di questo, mi paghi subito i 30.000 dollari. Lei continua a parlare di prove. Ma più importante di qualsiasi prova è assumersi la responsabilità di questo bambino. Credo sia giusto chiedere 30.000 dollari e poi lo lascerei. Il panico di Daisy era evidente e poi una delle lavoratrici quiettime, la signora Peter, intervenne. C'è qualcosa di sospetto. Perché ha così tanta fretta? E se lo amassi davvero e volessi avere un figlio, non penseresti di prendere dei soldi per lasciarlo, giusto? Non è vero. Le persone pensano in modo diverso. Smettila. Sei davvero una studentessa universitaria? Anche questo sembra sospetto. Certo, ci sono studenti universitari che lavorano come hostess. Ma qualcosa in te sembra strano. Cosa? Sono una studentessa universitaria. Ho davvero 21 anni. Sei davvero scortese. Ti denuncio per diffamazione. Si senta libero di fare causa. Ma potresti essere tu a essere denunciato. Perché? Per frode e diffamazione, forse. Che cos'è questo? Le recensioni online dicevano che il personale e il gestore erano così gentili. Ma è una vera e propria bugia. Siete così scortesi. Beh, oggi non è un giorno lavorativo. Se vuole vivere un'esperienza come quella descritta nelle recensioni, perché non viene a trovarci come cliente in un giorno lavorativo? Allora vedrà che è come dicono le recensioni. Ma credo che sia troppo tardi. Qui sono tutti così scortesi. Non c'è da stupirsi che suo marito l'abbia tradita. Beh, me lo chiedo anch'io. Non credo nemmeno per un secondo che mio marito abbia tradito. Hai la sua amante davanti a te e ti fidi ancora di tuo marito? Sei forse stupida? Non importa quanto gridi. Senza prove. Cosa posso fare? Posso fornire delle prove, ma non ne hai mostrata nemmeno una che dimostri che sei la sua amante. Come posso credere a quello che dici? Jennifer si morse il labbro per la frustrazione e mi guardò, ancora irremovibile nel suo tentativo di ottenere i 30.000 dollari. Anche con tutte le prove presentate. Non ammette la sua follia né si scusa. Sembra che non abbia altra scelta che sferrare l'attacco finale. Ho deciso di lanciare l'ultima bomba. Credo di non avere altra scelta che farle conoscere mio marito. Non volevo farlo. Pensavo di lasciar perdere se avessi ammesso e chiesto scusa. Ma se ti rifiuti di ammetterlo, non ho scelta. Cosa intende dire? Quando lo farò, non potrai più trovare scuse. Sei pronto per questo? Allora, cosa hai intenzione di fare? Signorina Peter, potrebbe portarlo qui, per favore? Certo. La signorina Peter andò in fondo e tornò con una lapide e una foto, mettendole sul tavolo. Guardai Jennifer. Eh, che ci fai con una lapide commemorativa? È inquietante. Non capisci? Questa persona è il tuo presunto amante, giusto? Eh, cosa, cos'è questo? Questa lapide e questa foto appartengono alla stessa persona. E cosa ha a che fare con suo marito? Non riesce a capire? Questo è mio marito. Questo è mio marito. Mio marito è morto cinque anni fa. Doveva trasferirsi per lavoro, ma io lavoravo e non potevo accompagnarlo. Stanco per il lavoro. Ha avuto un incidente mentre tornava a casa. La vita è così fugace, vero? Eh, ehi, se davvero porti in grembo il figlio del marito di Jennifer, allora stai dicendo che il tuo amante è un fantasma. Forse dovresti vedere una medium. Eh. Stai portando in grembo il figlio di un fantasma? Quel bambino potrebbe essere maledetto. I lavoratori part-time ridono e dicono. È spaventoso. Vorrei che mi apparisse se queste cose sono possibili. Ma Daisy ha reagito in modo diverso. Questo. Stai facendo tutto questo solo per negarlo? Stai cercando di convincermi con una foto sfocata e una lapide di qualcuno che non conosco? È incredibile. Anche con tutte le prove presentate, lei insiste ancora che è il figlio di mio marito. È incredibile. Non riconoscete nemmeno il volto della persona che dite di amare. I ragazzi di oggi non ricordano il volto del loro partner? Certo che no. Come faccio a capire qualcosa da questa foto sfocata? Hai solo paura di far uscire tuo marito perché se scegliesse me al posto tuo, lo odieresti, vero? Ma ho già detto che lo lascerò se mi paghi 30.000 dollari, quindi dovrebbe essere sufficiente. È già abbastanza. Non riuscendo più a trattenersi, la signora Peters ha gridato. Hai idea di cosa abbia passato Jennifer negli ultimi 5 anni? Perdere suo marito e sopportare tutto quel dolore. E lei viene qui a cercare di ingannare e mentire in questo modo. C'è un limite alle bugie. Quali bugie? È lei che cerca di ingannare con questo gesto. Ingannare? Sei tu il truffatore. Non sto commettendo una frode. Non dovrebbe dire queste cose solo per chi è deceduto. Diffamare i morti può comunque portare a un'azione legale. E ti denunceranno anche per frode. Perché dici così? Non è possibile diffamare qualcuno che è morto. Ma si può. Oh, la signora Peter è un avvocato locale. Un avvocato locale? Si occupa di piccoli casi locali. È l'avvocato che ha usato la nostra tavola calda. Perché c'è un avvocato qui? È così ingiusto. Proprio mentre Daisy si alzava, un cuscino che aveva usato per fingere la gravidanza cadde, rotolando sul pavimento. Tutti erano sbalorditi. Sospettavo che la gravidanza potesse essere una bugia, ma sono rimasta scioccata nel vederlo dimostrato da un cuscino caduto. Proprio come pensavo. La gravidanza era una bugia. Ah, no, non è così. Dire una bugia così terribile sul fatto di portare in grembo il figlio di mio marito. Mentre ero furiosa con Daisy, la signora Peter prese la sua borsa e iniziò a controllarla. Questa ragazza ha 24 anni, non 21. Una bugia così grande. Quindi anche la parte in cui dice di essere una studentessa universitaria è una bugia? Ci sono 24 anni all'università. E ci sono anche studenti universitari che lavorano nei locali di cabaret. L'ha già detto prima. Se continui a insistere. Mostracci il tuo tesserino universitario. Probabilmente non ce l'hai nemmeno. Perché lo fai? Mentire sul marito di un'altra. Che cosa stupida da fare. Mentre gridavo, Daisy si mise a piangere, sostenendo che era tutto vero. Ma la signora Peter non si lasciò ingannare da quelle lacrime. Piangere così è una cosa che si fa agli uomini. disse ridendo. Perché l'hai fatto? Usare una persona deceduta per uno schema del genere è semplicemente spregevole. Non è una bugia. Continuò ad asciugarsi le lacrime con un fazzoletto, ma non sembrava vero. Se non la smetti, informerò i tuoi genitori e la polizia. Sa cosa succederà se i suoi genitori lo scoprono, vero? No, signora Peter. Non posso perdonarla. Ha cercato di infangare la reputazione di mio marito, non importa per quale motivo. Andremo alla polizia? No, la prego. Volevo solo dei soldi. Non ero davvero la sua amante o incinta. Avevo solo bisogno di soldi, non avevo scelta. Non è una scusa per quello che ha fatto. Avevo debiti crescenti. Ho pensato che se avessi finto di essere incinta, avrei potuto ottenere i soldi. Visto che comunque non sarebbe venuto al cabaret, non ci sarebbero stati contatti con lui. Ho pensato che non si sarebbe accorto se lo avessi ingannato. Che tipo di persona è lei? A cosa servivano questi debiti? Beh, volevo oggetti di design. Per queste cose? Sì, ma quando si lavora in un locale di cabaret, tutti hanno articoli di marca. Non avevo clienti e ho già 24 anni. Le altre ragazze della mia età mi prendevano in giro. Così ho pensato che se avessi indossato articoli di marca, sarei stata vista in modo diverso. Era solo una piccola finzione. Hai infangato l'onore di mio marito solo per questo? Anche dopo 5 anni dalla sua scomparsa, lo diffamate ora. Ma non è subito dopo la sua morte. Quindi è meglio, no? Vedila così. Che cosa stai dicendo? No, questo è inaccettabile. Ti portiamo alla polizia. E informeremo anche i tuoi genitori, quindi preparati. Per favore, smettila. Smettila. Per quanto la supplicasse, la mia decisione non cambiò. Alla fine Daisy fu accusata di diffamazione e frode e fu condannata al carcere. Di conseguenza, fu licenziata dal locale di cabaret. I suoi genitori, che andarono a trovarla in prigione, erano furiosi e la fecero piangere dopo aver saputo del suo comportamento e del suo impiego nel locale di cabaret. Di cui non erano a conoscenza. Erano scioccati dalle azioni e dallo stile di vita della figlia. Quando i genitori le hanno chiesto perché avesse bisogno di soldi, Daisy non ha potuto ammettere che si trattava di articoli firmati e ha mentito sul fatto che voleva studiare all'estero. Cercando di ingannarli ulteriormente. Tuttavia, ho informato i suoi genitori di tutta la verità. Ciò provocò ancora più rabbia da parte dei suoi genitori, che smisero di farle visita in carcere fino al suo rilascio. Anni dopo, una volta uscita di prigione, Daisy pensò di tornare nel mondo illuminato dai neon dei locali notturni. Ma quando uscì dal carcere, i suoi genitori la stavano aspettando. Eccitata dall'idea di tornare alla vita normale e dall'aspettativa di ricevere un buon pasto, Daisy si rende presto conto che i suoi genitori non sono così indulgenti. Profondamente pentiti della loro educazione, decisero di portarla a vivere con la severa nonna in montagna. La casa della nonna, senza elettricità e senza divertimenti, era un ambiente più duro della prigione per la stravagante Daisy. Vedendo lo stato di depressione di Daisy, la nonna giurò di raddrizzarla, inseguendola con un bastone in mano. Per quanto mi riguarda, la tavola calda continuava a prosperare e io mi sentivo grata, convinta che mio marito vegliasse su di noi. Io e il personale part-time continuiamo a servire ogni giorno pasti deliziosi.